Buonasera, eccoci con il nostro appuntamento di A tutta C del calcio di Serie C, Gironea, inserite Albinolefe e Atalanta. Torniamo come ogni settimana a raguagliare su quello che succede giornata in giornata. Siamo ormai alla 24esima giornata, noi siamo alla 22esima puntata di A tutta C e andiamo a parlare dei risultati del fine settimana che sono stati uno sorprendente e bello importante per quello che riguarda Albinolefe, buono anche l'altro, quello dell'Atalanta fuori casa. Insieme a me Ezio Pellegrini, Terzo Tempo, Sport Magazine, ciao Ezio. Buonasera, ciao Ronaldo. Allora, questa volta invertiamo un po' la faccenda, partiamo noi a commentare perché subito dopo nel secondo blocco avremo un collegamento con noi, Emilesi, uno dei centrali di difesa dell'Albinolefe, parleremo di questa vittoria importantissima. Partiamo da lì perché prima dei risultati è una battuta su quello. Vabbè, è sorprendente ed è anche piacevolmente una bella sorpresa questa vittoria dell'Albinolefe contro la capolista. Da dire che l'Albinolefe tutte le volte che ha incontrato squadre forti, dove sulla carta ci saremmo accontentati di un risultato positivo, e magari era prevista anche una sconfitta, invece sono arrivate delle belle prestazioni e questa è una bella vittoria, che dà tanto ossigeno alla classifica dell'Albinolefe e la pone, ha scalato anche addirittura una posizione, perché adesso è nona e quindi è in una posizione come la società desidera, cioè quindi di una salvezza tranquilla. Davanti a sorpresa per me c'è solo Lumezzane, poi le altre davanti sicuramente sono partite per un altro campionato. Adesso io non so l'asticella della salvezza, possiamo porla a 40 punti con 20 squadre. Di solito a 40 punti ti salvi, ne hai 34, mancano ancora un bel po' di partite, direi che la strada è tracciata. Possiamo dire che l'Albinolefe sta facendo sorprendentemente anche in base alla rosa iniziale, agli infortuni che ha dovuto affrontare, e non è ancora finita questa questione degli infortuni, e sta facendo veramente bene. L'Atalanta a suo modo pareggiato, è quarta, consolidato, non ha sfruttato il fatto che la Triestina ha perso, la Triestina non solo ha perso, ma ha perso anche l'allenatore perché Tesser è stato esonerato. Al suo posto abbiamo visto è arrivato Bourdain e adesso vediamo questa nuova avventura, però la Triestina diciamo che è al terzo posto abbastanza consolidato con 46 punti. L'Atalanta è una partita a meno, potrebbe andare a 41. Sì, questo è vero perché deve recuperare il 21 febbraio la partita con Renati che era stata rinviata per Nebbia. Il Mantova che ha perso, il Padova non ne ha approfittato perché ha pareggiato e quindi ha rosicchiato soltanto un punticino, e là il Mantova è sicuro con i suoi sei punti di vantaggio. Detto questo, in fondo alla classifica vediamo che il Trento traballa un po', l'Alessandria mi sembra in una valle di lacrime perché ha 14 punti, e si sta allargando tanto la forbice tra, diciamo, l'ultima, quella che entra nei play-off, che siamo 27, no? Perché anche la pergoletese che è attualmente fuori ma non può dirsi tranquilla, tranquilla, e quindi fino all'Arzignano, a Renate non possiamo dire di essere tranquilli, no? In quella zona lì. Però l'Alessandria ha questa forbice che sta diventando veramente... No, l'Alessandria ha la retrocessa, ultima in teoria retrocessa, Pro Sesto ha una forbice impressionante, altrimenti sarebbe retrocessa la Pro Sesto, un play-off non si giocherebbe perché pergoletese mette la forbice, un po' come è successo l'anno scorso, che un play-off non si è giocato, si è giocato solo Mantova, Albino Leffe, e poi in questo momento sarebbe facilmente Trento-Novara al play-out, o Fiorenzola, adesso bisogna vedere la differenza e i scontri diretti, Fiorenzola però in grossa crescita perché le ultime tre partite, due fuori casa, a Trento 2-0, allo Stadium 2-1 contro Albino Leffe, e ha pareggiato in casa. Il Trento invece ha perso e la prossima gara ce l'ha col Padova, se non ricordo mai, e quindi sulla carta la vedo proprio difficile, difficile. Questo è il prossimo turno, anche perché si comincia venerdì e poi tutte di sabato, perché poi ne parleremo, c'è l'infrasettimanale, il martedì dopo il 13, e ce n'è anche a farlo opposto al derby tra Albino Leffe e Atalanta, però si comincia con questo turno, hai detto bene, Padova-Trento, partita difficile, ci sarà Atalanta-Vicenza, Caravaggio. Quella è una gran bella partita, Atalanta-Vicenza, ci aspettiamo di vedere un bel gioco, e l'Albino Leffe ritorna a Legnago e ricordando che il Legnago è stata, diciamo, la partita che ha separato le acque, perché quella giornata lì, ti ricorderai, è stata deludente, hanno sbagliato l'approccio, però da lì, diciamo che poi l'Albino Leffe ha incontrato l'Atalanta, ha fatto prestazione e poi è andata avanti, ha fatto un bel filottino, e lì si è tirata fuori dai guai. Ridami, se puoi, Felix, i risultati, che è una felicità ovviamente regia, di riguardare i risultati, andiamo a fare un commento su questi risultati del fine settimana, ancora una caduta della Gianna, che insomma poco male è andata, questa squadra aveva fatto un grande finale di giro di andata, poi adesso nell'inizio di ritorno comincia ad avere le difficoltà, Vicenza, Di Vecchi finalmente trova una vittoria importante, in Guaia per gol e tese però due a zero fuori casa, e Vicenza adesso che ha sistemato il mercato, poi ha preso due o tre giocatori, ha liberato Imenes che ha debuttato con l'Atalanta, ma ha preso due o tre giocatori importanti, gli uomini Di Vecchi, io Vicenza la vedo come una squadra da evitare nei play-off, perché questa quando sarà nei play-off sarà importante come formazione, e poi via via tutti gli altri risultati, Renate ancora un po' in crisi, insomma dimostra che questa Albinolef col suo risultato, la caduta di Fiorenzoola l'ha digerita, soffrendo un po' a busto, ma l'ha appropriata la squadra nel ritorno, perché ha vinto tutte le partite, eccetto il pareggio con l'Albinolef, l'ha appropriata nel ritorno, però l'Albinolef, nonostante le grosse difficoltà a livello di formazione, sta facendo il suo campionato, forse ha fatto già più punti dall'anno scorso. Sì, sì, da questo punto di vista, come dire, quasi in silenzio, perché ti sembra che gli manchi questa continuità, e quindi che non sia un bel campionato, ma nella realtà, se guardi i punti, poi se andiamo ad analizzare anche un po' di numeri che ci siamo preparati, anche in previsione, ma anche con il derby che ci sarà nell'infrasettimanale. E noi stiamo organizzando qualcosa di diretta. E guardando i numeri di Atalanta e Albinolef, scopriamo che l'Albinolef non è emesso poi così male come risultati. Gli è mancato giusto la continuità. L'Atalanta ha un po' più di continuità, ma devo dire che dal punto di vista qualitativo poi vedremo che c'è una voce che vede migliore addirittura l'Albinolef. Sì, tra i segnati, i subiti, eccetera, siamo molto vicini fra le due formazioni, anche se i punti sono quattro di differenza, ma soprattutto c'è una partita a meno dell'Atalanta. Però, torno a ripeto, è un bel Albinolef. Ma prima di arrivare al Albinolef, e zio ti chiedo, parliamo un po' di Atalanta, perché poi Albinolef ne parleremo tanto anche insieme a Milesi, e se no ce l'eremo anche i numeri insieme a Milesi. È arrivato questo 1-1, tante note positive, prima di tutto il gol di Diao, che è stato un grande gol. Allora, farei anche un passo indietro, perché la formazione che è stata messa in campo era addirittura rivoluzionata rispetto, perché il mercato, sembra così, ma di una squadra che aveva già una rosa profonda, ha visto partire una serie di giocatori, Italeng, Di Serio, Mallamo, ma nella realtà poi sono rientrati Ida Riva, Panada, hanno preso Gimenez, Diao, cioè quindi alla fine, dal punto di vista numerico non è cambiato niente, ma dal punto di vista dei giocatori, a centro campo, in attacco, è stata una partita che ha visto una formazione rivoluzionata, e soprattutto in attacco, perché non c'è più Di Serio, non c'era, Italeng è andato, Italeng è andato, ha giocato Diao e in panchina c'era Vlaovic. Allora, i due, Vlaovic è capocannoniere nella primavera, Diao, quando era al Verone, era il vice di Vlaovic e adesso si trovano a queste posizioni invertite dove Diao è titolare nell'Under 23 e Vlaovic se lo porta in panchina. Ma durante il corso della partita sono entrati tutti, è entrato Dariva, è entrato Panada, è entrato Vlaovic, insomma, questo può anche essere che in questa fase, per quella partita che abbiamo visto, nonostante siano andati in vantaggio, poi sono stati raggiunti, perché c'è stata una bella reazione degli avversari. Però abbiamo visto che anche lì, ancora una volta, Modesto è costretto a mettere in campo dei giocatori che non hanno ancora quella magma, no? E a questa partita ha maggior ragione perché venivano tutti per la prima volta da fuori, però è chiaro che la qualità non manca a questa squadra. Beh, sono arrivati Dariva e Panada che hanno fatto categorie superiori, ha quasi migliorato, non ricordiamo perché è molto giovane, ma abbiamo visto, vedremo fra poco il gol, impressionante, particolarmente a metà campo. Alla prima occasione ha fatto vedere le qualità, perché ha preso palla, è andato in allungo, ha fatto un tiro veramente bello, è fatto un bel gol. Gimenez è giocatore a serenità, era in prestito a Vicenza, è girato qua, vuol dire che ci credono, poi Modesto l'ha già avuto. Sì, e poi ho visto che, io l'ho visto in televisione, Gimenez si è messo lì a fare il regista e tutto il gioco passava da lui, ha buoni piedi, buona visione di gioco. Secondo me, diciamo che con questi arrivi ha persino migliorato. Mi è venuto persino il sospetto, vuoi vedere che questi stanno pensando a qualcosa di più importante che non arrivare ai play-off, perché è vero che Panada, Panada, Dariva, non avevano tanto spazio fuori ed è meglio valorizzarli qui, però tu li richiami, gli fai scendere di una categoria e poi dai a questa squadra una qualità superiore a quella che già avevano che era abbastanza alta. Abbastanza, era molto alta la qualità sicuramente da Tlanta, poi mi è sentito Modesto, mi fa io comunque mi fido della società e di Gatti perché so che i giocatori porteranno, però io non dico niente, mi trovo i giocatori e alleno quelli che ho sapendo che non sono io e Ezio Pellegrini che scendiamo in campo, ma sono giocatori importanti per questa Atalanta. Vediamo proprio il servizio prima dell'Atalanta col pareggio Provercelli e ci vedremo anche il gol di Diano. Nel fine settimana c'è la trasferta a Vercelli per l'Atalanta Under 23, partita di alta classifica perché Provercelli segue proprio in classifica la formazione nero-azzura, quinto posto per la squadra di casa della Provercelli e invece quarto posto per l'Atalanta Under 23 che cercava di mantenere la posizione. Ma ovvio che la sformazione di Modesto non guarda tanto a queste cose, ma guarda soprattutto la crescita dei propri giocatori e vediamo che di settimana in settimana questa crescita c'è. Dopo un mercato che ha fatto tante uscite nell'Atalanta e sta un po' rivoluzionando se vogliamo questa Under 23 con volti nuovi. L'Atalanta Under 23 con solita di essere imbattuta in questo 2024 e ottiene, come abbiamo detto, un bel pareggio anche in casa della Provercelli. E a trovare il gol alla prima da titolare è proprio quel Diao che è arrivato in mercato invernale insieme a Ien della formazione dell'Everona. Questo giovane che ha fatto numeri importanti nella primavera dell'Everona sarebbe stato titolare già nella gara rinviata contro il Renate. Titolare lo è stato ieri a Vercelli e in una ripresa si è preso la soddisfazione di fare un gol molto importante e molto bello partendo da centrocampo potenza fisica e anche velocità scagliando dai 16 metri un tiro sotto la traversa. Dopo un primo tempo giocato forse meglio dalla formazione nata da Modesto dove ha avuto qualche occasione in più rispetto al Provercelli grazie a questo gol anche di Diao nella ripresa sembrava che la partita fosse incanalata per il verso giusto addirittura con una vittoria esterna. Ma ovvio che la squadra di Dossena non ci stava alla situazione ha reagito subito ha trovato il pareggio nei minuti finali. A fine partita sembravano entrambi soddisfatti i due mister sia Modesto che Dossena di questo 1-1 di questo pareggio che continua a muovere la classifica e soprattutto che dà certezze a queste due formazioni giurcarsi la fine a fine sicuramente per la zona play-off. E allora andiamo a vedere il tabellino l'Atlanta è sceso in campo con Vismara palestra Berto, Mohameti, Javua, Varnier, Ghislandi, Solcia, Gimenez, Diao, Cortinovi. Se vediamo debutto anche il titolare di Gimenez arrivato dalla Serenitana via Vicenza e poi dal Vlaovic quell'attaccante entrato 20 minuti alla fine e quell'attaccante è arrivata una comunicazione che ci dice che non sono 34 punti l'Albino Leff ma sono 33 e 38 l'Atalanta. Come gli anni del signore 33 per l'Albino Leff speriamo che si muova da lì e non si fermi. Sicuramente quello è importante dunque è giusto dire così resta comunque il campionato 34 la Virtus Verona e 33 l'Albino Leff esatto che questo abbiamo sentito lì l'Atalanta abbiamo visto questo servizio abbiamo visto il gol di Diao abbiamo visto diversi debutti e Ezio l'ha buttata lì perché ha detto bah siamo sicuri che questa squadra lo farà fare i play-off magari non vorrà a tutti i costi salire non ce lo diranno mai ma nei fatti però anche se arrivasse nella finale dei play-off è una crescita continua ai giocatori sempre alzare l'astricella è ovvio che secondo me a livello di prima squadra dell'Atalanta avere una seconda squadra in Serie B per i giocatori è una crescita ancora più potente rispetto alla C perché la B comincia ad essere a un livello che aumenti anche il valore delle plusvalenze perché avere una serie di giovani che fanno il salto primavera che è abbastanza vicino alla Serie C come livello sì vediamo la B Albinoleff lo sta dimostrando qualitativamente ma se fai il salto in B allora lì diventa magari anche più complicato però sì erano giocatori importanti l'Atalanta allora prima di chiudere il blocco andiamo a sentire e poi di aprirlo quello con Milesi cercheremo qualche curiosità se non ce l'abbiamo un po' i numeri con Milesi di questo Albinoleff andiamo a vedere anche le parole di Lopez invece giriamo sull'Albinoleff su questa partita lo vediamo l'abbiamo visto l'ho visto in un'intervista molto felice molto orgoglioso eh sì di dire vabbè noi ci prepariamo per battere queste formazioni poi non è facile vincerle e andiamo a sentirlo Lopez l'abbiamo preparata in quel modo però sono molto bravi a centrocampo nelle rotazioni li ho mandati a uomo nella propria zona su Burrai che secondo me è un giocatore in questa categoria non c'entra nulla per cui lì l'ho mandato proprio forte addosso no non sono tante probabilmente nemmeno voi ci credevate ma noi lavoriamo per fare in modo che questo accada ci abbiamo lavorato tutta la settimana bene molto bene ma queste sono partite che a me non preoccupano perché so che la squadra la prepara in un certo modo le prepara per bene allora io il mio problema il mio pensiero è la prossima partita noi abbiamo battuto la Triestina a Trieste e abbiamo perso un casa anche giocando una partita splendida dico solo che il Mantova che oggi è stato straordinario perché ha un tipo di gioco che mi affascina infatti ho parlato proprio lunedì con il Postazzini che eravamo anche a Coverciano glielo ho detto mi affascina e mi piacerebbe anche vederlo come si allena perché non tutti lo sanno fare lui viene da una scuola importante quella di De Zerbi per cui è sicuramente avvantaggiante è un ottimo allenatore diventerà sicuramente un grande allenatore è una grandissima squadra al momento loro sono avanti con merito grande merito noi secondo me abbiamo fatto qualcosa che fino adesso non ha fatto nessuno contro il Mantova almeno a vedere le partite perché il Mantova ripeto con le rotazioni che fa mi sono in difficoltà tutti con noi è riuscito un po' meno per quanto riguarda la condizione noi ci alleniamo io ho un problema grande con tanti infortunari ieri si è fermato anche Marchetti la rifinitura perché questo non ha giocato però va bene così se risulta solo questi va bene così noi dobbiamo fare quello che abbiamo detto all'inizio ci dobbiamo allenare per salvarci poi se otteniamo la salvezza prima meglio però l'obiettivo è quello della salvezza io mi ha dato anche un po' falsita avrebbe preso il gol anche se poi diciamo che il portiere nostro è stato straordinario perché insomma noi abbiamo fatto dieci partite senza prendere gol questa sarebbe stata l'undicesima e calcolando che questa è la stessa difesa l'anno scorso l'anno scorso su 38 partite l'Albino Raffaea cinque volte è riuscito a non prendere gol noi su quelle che abbiamo fatto dieci volte per cui vuol dire che i ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro sono migliorati devo dire oggi sono stati straordinari proprio sotto l'impegno sotto la voglia di comunque di ottenere risultato e siamo riusciti proprio l'ho chiuso del primo blocco però una battuta sulle parole di Lopez grandi elogi a Possanzini Marietta super strepitosa in queste due giornate sì certo lui rimarca il fatto che ha sistemato la difesa che è veramente diciamo il passo poi abbiamo l'ospite che è uno dei protagonisti il passo veramente decisivo di questa squadra è aver fermato l'emorragia che un po' si era vista anche all'inizio del campionato e Lopez da grande difensore quale è stato probabilmente li ha anche un po' allenati ma questo lo chiederemo a Milesi sì sono state due partite adesso andiamo a chiusura sono state due partite in cui è girata anche per fortuna bene all'Albino Leff perché il primo tempo di Novara eccola qua sistemata la classifica perfetto grazie a Felix che subito la sistemata in regia Albino Leff e proprio altre a Braceto quota 33 dicevamo primo tempo di Bustor Sizio super marietta poi un secondo tempo equilibrata e anche ieri di fronte a un Mantua ci vuole un super marietta e super marietta è stato questo portiere che ha portato due risultati importanti per l'Albino Leff in un momento un po' così e così fermiamoci pubblicità poi rientriamo andiamo a salutare Milesi difensore dell'Albino Leff eccoci rientrati in diretta e subito andiamo a salutare il giocatore ma non perché è con noi ci hanno detto è stato il migliore in campo con la vittoria contro il Mantua dunque grazie all'Albino Leff che ogni tanto ci dà ci dà queste belle soddisfazioni ci dà queste belle soddisfazioni non solo dei risultati ma anche ospiti all'interno della nostra trasmissione lo colleghiamo con noi è Luca Milesi uno dei centrali della difesa di questa Albino Leff ciao Luca buonasera a tutti buonasera grazie poi un Bergamasco doc perché ha girato ha girato un po' di Italia per le squadre di calcio però adesso è tornato nella sua terra Bergamasco dunque partiamo da lì ancora un attimino in più anche se voi giocatori siete abituati a girare i professionisti siete abituati a girare però vestire la maglia della squadra della tua città è sempre ti fa dare qualcosa in più no Luca? no beh sicuramente casa è sempre casa ecco quindi trovare luoghi di te comunque sempre familiari è motivo di di orgoglio di magari riuscire a dare qualcosa in più sicuramente ecco fa sempre piacere prima di arrivare i risultati prima di lasciarti a Ezio che un po' di cose da snocciolarti gli faccio una domanda perché ormai Lopez simpaticamente all'interno delle sue interviste a fine partita dice la difesa chiama sempre in causa la difesa l'anno scorso subivano lo gastano e i difensori sono ancora quelli cos'è cambiato Luca nei tre centrali di difesa nel vostro reparto lì dietro che nonostante avete infortuni uno dietro l'altro ma io credo che fondamentalmente non è che noi di per sé siamo cambiati nel senso che la qualità c'è sempre stata ecco è chiaro che magari avere qualche certezza in più ci ha sicuramente aiutato e poi va bene non è che si difende solo in tre il calcio moderno è importante avere un'organizzazione collettiva di un certo tipo perché sennò diventa diventa difficile quindi in generale penso che abbiamo un'organizzazione buona molto buona e quindi ne giova tutta la squadra soprattutto anche la difesa ovviamente è ovvio queste sono parole giuste perché non è perché i tre difensori sono più forti quest'anno rispetto all'anno scorso ma dipende poi il complesso di squadra tutte le squadre vengono fatte così secondo me il reparto più importante è il centrocampo perché per l'attacco e per la difesa il centrocampo è quello che sì certo però i meccanismi devono essere devono andare insieme perché altrimenti le scollature però volevo chiedere all'inizio della stagione avevamo notato che qualche sbavatura la difesa l'aveva un po' manifestata quindi qualche partita si era persa anche per qualche defiance della difesa poi improvvisamente questa cosa si è sistemata e adesso siete addirittura non so se la quarta o quinta miglior difesa del girone sapendo che Lopez è stato un grande difensore è una cosa che lui allena o è un discorso più di affiatamento tra di voi ma penso penso un po' un po' entrambe le cose nel senso che noi comunque da quando siamo in ritiro che abbiamo abbiamo cercato di assorbire quelli che erano i concetti del mister quindi tanto che ci lavoriamo non è una cosa immediata non è una cosa immediata vedere i risultati ecco ci vuole il proprio percorso si deve sbagliare e da questi sbagli poi si impara è chiaro che poi adesso cominciamo anche magari a conoscerci un po' di più tra di noi sappiamo un po' le caratteristiche di uno dell'altro quindi tutte queste cose fanno sì che poi messe insieme non possono fare soltanto che bene ecco e poi avendo dietro un portiere come Marietta che sta facendo molto bene secondo me dà anche forse un po' più di sicurezza a voi che non c'è magari quella apprezzione di dire che se supera l'ultima barriera del difensore poi con il portiere dietro invece questo dà secondo me una garanzia anche a voi forse una maggior tranquillità o no? No no ma assolutamente è chiaro che è un'altra componente importante soprattutto a prescindere da quelli che possono essere schemi tattiche contro tattiche è importante anche avere dare fiducia all'interno di un gruppo e quindi penso sia una componente fondamentale questo quindi Cristian è stato bravo in questo è bravo in questo e ti chiedo Luca visto che siamo su Marietta la crescita anche di questo portiere perché quello che ho notato io io qualche anno in Porta l'ho fatto anch'io all'inizio era un buon portiere e anche comunque abbastanza giovane Marietta non è un portiere esperto un portiere giovane mentre nelle ultime partite vedo che vi redarguisce anche dietro ogni tanto lo vedo parlare arrivare anche all'area di rigore richiamare anche la difesa dunque soprattutto è cresciuto lì nella nella sua sicurezza e nella personalità nonostante si trovi davanti i difensori esperti come siete voi anche lì è cresciuto è entrato proprio nel gruppo e questo per un portiere ripeto fa parte sempre del processo di crescita che dicevo prima è chiaro che all'inizio magari sai anche proprio dal punto di vista umano hai un certo tipo di confidenza dopo qualche mese comunque che tu conosci i tuoi compagni è tutta un'altra cosa quindi sicuramente in lui questa cosa è cresciuta come è cresciuta in tutti del resto anche perché noi quest'anno siamo in gran parte comunque stati un po' rivoluzionati rispetto all'anno scorso quindi ecco questo questo aiuta ecco aiuta tutto altra domanda Luca che volevo fargli è la difesa perché è una delle migliori difese del campionato la BNF nonostante ha fatto 10 partite senza subire gol qualche partita ha subito il 3 gol un paio di partite se no sarebbe ancora meglio questa difesa la cosa che ti chiedo siccome voi siete te Marchetti Borghini difensori abbastanza fisici non siete difensori piccoli agilissimi e velocissimi ma siete molto fisici non soffrite sugli uomini veloci perché non vi ho visto mai soffrire sulla velocità degli avversari forse qualche gol di testa in meno in area con voi tre ci aspettavamo insomma qualche gol di testa forse di troppo dagli avversari però ovvio il pallone è così è chiaro che che non è facile poi comunque quando si gioca uomo su uomo ci vuole veramente poco delle volte dal fare una bella figura a farne una brutta quindi è chiaro che delle volte magari si dà per scontato che il difensore arrivi su tutte le palle e non si nota questa cosa quando magari comunque c'è mezzo errore che può bastare benissimo anche pochi centimetri che poi l'attaccante anticipa il difensore è chiaro che poi l'errore salta decisamente più a l'occhio poi vabbè bisogna sempre migliorare bisogna sempre migliorare perché comunque il gol che abbiamo preso alcuni erano magari invitabili alcuni no ci sono anche gli avversari ci mancherebbe quindi noi sicuramente dobbiamo migliorare in tutto dobbiamo lavorare vediamo se abbiamo ancora collegamento no abbiamo vai invece volevo chiedere questa cosa c'è stata questa quest'ultima fase in quest'ultimo mese mese e mezzo dove l'Albino Leffe ha riscontrato una serie di infortuni lunghi quindi per esempio alcuni giocatori come Giorno su cui si faceva affidamento all'inizio del campionato poi di fatto lo si è perso per tutta la stagione ma nonostante questi lunghi infortuni l'Albino Leffe ha una posizione di classifica molto buona dovuta al fatto che i giovani che sono stati chiamati e buttati dentro nella mischia hanno fatto molto bene allora ti volevo chiedere da giocatore esperto quale sei tu hai girato mezzo Italia hai fatto hai giocato in diverse squadre eccetera come vedi questi ragazzi nell'Albino Leffe e soprattutto se c'è gente che noi magari non vediamo ma che si allenano con voi magari che arrivano dalla primavera e che possono essere dei prospetti interessanti anche per il futuro ma sicuramente loro sono stati anche aiutati dal fatto che soprattutto quest'anno abbiamo un gruppo con determinati valori nel senso che sono tutti secondo me stati messi nelle condizioni di esprimersi al meglio di essere proprio agio soprattutto anche come come ragazzi ecco quindi quello sicuramente li ha aiutati poi indubbio che le qualità le qualità le hanno perché poi comunque il campo è quello che parla e quindi sicuramente quello li ha aiutati come dicevo poi l'Albinolef comunque ci lavora nel senso che noi comunque vediamo siamo al centro vediamo comunque l'organizzazione che c'è dietro tutte le squadre del settore giovane le hanno una certa impronta e niente questo porta poi porta i propri frutti ecco loro stati bravi a farsi trovare pronti ce n'è stato bisogno c'è stato un gran bisogno perché abbiamo avuto tanti infortuni e niente va dato merito a loro e magari merito anche un gruppo che è riuscito a far sì che loro si integrassero al meglio quindi c'è un buon affiatamento di spogliatoio stai dicendo che aiuta anche nel clima chi deve esordire o chi deve confermarsi sì sì penso aiuti tutti ecco penso aiuti tutti e soprattutto penso aiuti anche i ragazzi giovani se io penso quando sono stato giovane io sicuramente penso che questo mi avrebbe avrebbe aiutato anche a me ecco Luca un'altra domanda è quella andiamo a parlare la partita col Mantua così facciamo una battuta anche sulla partita del Mantua grande vittoria importante perché il Mantua arrivava con numeri impressionanti come squadra e come gioca a calcio allora ci sono state partite con la Provercelli eccetera dove non si è fatto è il bello del calcio questo non si è fatto risultato dove si è creato tantissimo ed i si è perso le ultime due a Busto il primo tempo e ieri col Mantua onestamente un po' si è sofferto la fortuna ha anche dato una mano oltre i meriti del Binolefe perché il Mantua ha creato tanto il primo tempo a Busto la Pro Patria aveva creato tanto è ovvio che si veniva sconfitta con Fiorenzo ora bisogna tornare a fare il risultato il calcio è bello per questo no? no no assolutamente poi io penso che alla fine di un'annata ecco ognuno si ritrovi i punti che merita ecco ti dà e ti toglie il calcio tante partite magari potevamo potevamo vincere potevamo portare la casa con un pizzico più di precisione o di cattiveria in più altre partite magari potevamo benissimo uscirne con le ossa rotte ecco è chiaro che se tu vuoi cercare il risultato contro il Mantua se tu ti diventi e basta e speri di non prenderlo difficilmente la porti a casa ecco noi siamo stati bravi a comunque giocarci a viso aperto e anche fortunati comunque in qualche situazione però ripeto fa parte del gioco quando giochi contro squadre così forti e organizzate lo metti in conto ecco si va a Legnago sabato sera con la partita ricordiamo che l'andata arrivò Obedio all'interno della conferenza stampa e fu abbastanza arrabbiato per quella sconfitta che poi da lì è cambiato se vogliamo un po' il campionato dell'Albino F e poi martedì dopo allo stadio arriverà il derby il derby bergamasco che sperando con una bella classifica così come quella di adesso sereno e che due squadre se la giochino e se ne dino di santa ragione almeno sportivamente parlando tra l'Albino e l'F e l'Atalanta no Luca? Entriamo in una fase dove i punti adesso pesano nel senso che tutte le squadre comunque hanno bisogno adesso andiamo a giocare a Legnago che è una squadra tra virgolette che è un po' tranquilla nel punto di vista della classifica però vedendo gli altri risultati vedendo un pochettino il passo che hanno tutti è importante ogni partita quindi sicuramente sicuramente sarà difficile anche là pensiamo pensiamo a Legnago poi penseremo penseremo anche al resto ecco ultima mia domanda poi te la lascio a te poi lo lasciamo anche andare che faremo considerazione è quella due giocatori secondo me non voglio togliere nulla gli altri gli altri stanno facciando adesso Agostini eccetera Dumbia e Zoma perché questi già l'anno scorso li hai visti affacciare nella prima squadra e crescere con la prima squadra quest'anno cominciano a confermarsi importanti per me sono due giocatori con la tua esperienza che sai che per me possono fare categorie superiori sono giocatori che vabbè non è che li scopri nel senso che sono qua dall'anno scorso e in dubbio comunque hanno qualcosa che un po' più sono un po' più pronti ecco ma dato anche dal semplice fatto che il calcio moderno e la facilità è importante se non determinante e loro hanno dimostrato comunque di avere una determinata una determinata cilindrata ecco possono fare bene devono comunque continuare a lavorare perché perché la strada è ancora lunga e sta a loro ecco i mezzi per ottenere i risultati ce li hanno ecco io lo ringrazio l'ultimissima è avete fatto una tabella per segnare a quanto è la salvezza secondo voi si può dire che a 40 punti ci si salva ma vedendo l'anno scorso 40 punti direi dire di no nel senso che se non ricordo male l'anno scorso l'ultima squadra che è stata che è stata implicata nei play out era il mantua e se non sbaglio ha fatto 45 punti quindi se devo fare affidamento a quello che è l'anno scorso tengo conto dei 45 punti non so secondo me l'importante è far più punti possibili il prima possibile perché poi dopo la fine le partite cominceranno a pesare quindi adesso che abbiamo tempo è meglio è meglio darci dentro mettiamola così io ti ringrazio Luca di essere stato con noi grazie mille per aver partecipato alla nostra tradizione bocca al lupo e grazie mille di essere stato con noi ci si vede sui campi vi abbiamo rubato due minuti in più rispetto ai dieci che vi avevo promesso non c'è problema ci mancherà ciao buona giornata grazie i giocatori che hanno fatto l'allenamento questa mattina oggi hanno la mezza giornata libera pronti ad entrare anche perché sappiamo che la serie C è spezzettata tanto il campionato di serie C di venerdì di sabato fra settimanali eccetera dunque gli allenamenti vengono studiati di settimana a settimana hai dei numeri da sono cesare il servizio l'abbiamo visto nel TG in previsione di Albino Leff Atalanta dove i punti di differenza adesso sono 5 sapendo che l'Atalanta ha fatto una partita in meno però volevo segnalare questa cosa l'Albino Leff ci arriva con 9 vittorie 9 sconfitte 6 pareggi mentre l'Atalanta ci arriva con 11 vittorie 7 sconfitte 5 pareggi non siamo molto distanti come range 24 gol per entrambe attenzione che l'Albino Leff ha segnato 14 gol in trasferta e 10 in casa quindi ha un rendimento se vuoi migliore in trasferta che in casa l'Atalanta 11 gol in trasferta e 13 in casa ma anche qui le differenze non sono moltissime la cosa che segna una differenza paradossalmente è che l'Atalanta non ha un capocannoniere allora noi qui possiamo dire che all'Albino Leff Zoma ha 8 gol e Longo 4 se andiamo a vedere l'Atalanta Sisse che ne ha segnati 4 e poi c'è Diserio e Ghislandi con 3 di serio non c'è più quindi diciamo che l'Albino Leff da questo punto Ghislandi è un esterno basso che è un difensore non è un attaccante per cui difficilmente potrà diventare il capocannoniere della squadra però questo per dire che l'Albino Leff ha una struttura ben definita dove in casa e fuori con un po' di attenzione in casa potrebbe migliorare il range e migliorare anche la classifica questo mi sembrava un dato interessante da sottoporre anche all'attenzione dei nostri telespettatori perché l'Atalanta in questo vediamo il suo punto debole cioè il punto debole dell'Atalanta è che se tu vai a vedere le vittorie 1-0 di Cortomuso ma per la qualità che ha e per il gioco che esprime forse è l'elemento dove più soffre questa squadra infatti è arrivato Diaw due o tre partite subito titolare praticamente perché sarebbe stato titolare quella che è stata sospesa poi il fatto che abbiano cambiato gli attaccanti cioè di serio i Taleng significa che nella riflessione anche della società questi dati hanno influito esatto e sperano che Diaw porti quei numeri porti quei giocatori anche il Braovic sono giocatori che hanno numeri realizzativi molto importanti e ovviamente quello che manca questa tanta per fare il salto in più ovvio che è una difesa molto forte della formazione nero-azzurra numeri importanti questi che poi li vedremo allora in Albinoleff e Atalanta anche l'andata era stato quell'1-1 che ha dimostrato questi numeri esatto certo è passato un po' di partite l'Atalanta ha fatto la sua esperienza Albinoleff se facesse risultato Legnago sarebbe bello perché gioca serena contro l'Atalanta ancora più serena e veramente ci potremmo divertire bene e noi e noi adesso insieme alla regia cercheremo di organizzare visto che sarà martedì prossimo e alle 20 quando andiamo in onda si starà ancora giocando il derby starà nell'ultima mezz'oretta cercheremo magari Ezio non sarà qua in studio ma sarà collegato allo stadio puòarsi che anch'io sia allo stadio insomma vediamo di organizzare questa diretta ma vi porteremo sicuramente questo derby in casa vostra fino al risultato finale il nostro orario sapete dalle 20 alle 20 e 30 la organizziamo adesso voi comunque non perdete l'appuntamento alle ore 20 grazie Ezio grazie a voi grazie a Albino Leffe grazie a Albino Leffe per averci portato l'ospite in collegamento con noi e i contributi dei nostri sponsor Felixin e Regia l'appuntamento martedì prossimo con la diretta per Albino Leffe Atalanta alle ore 20